Tenente Di Dalmazzi, è il caso di dire che avete salvato la vita di un uomo che ha rischiato di morire assumendo dosi notevoli di un anticoagulante? Sì, la storia, come avete sentito, insomma, come si è capito, ha dei contorni veramente inquietanti. Questa coppia di madre e figlio hanno messo in atto questo piano diabolico al fine di uccidere il marito di lei. Sì, sul momento stiamo ancora un po' brancolando nel buio perché ci potrebbero essere varie piste, dalla pista patrimoniale alla pista sentimentale, il rancore verso la famiglia o semplicemente motivi personali loro. Però è stata veramente un'indagine che ha portato alla luce una personalità veramente incredibile ed inquietante. La vittima, oltre a rischiare la vita perché si è trovato a bere questo liquido, questa bevanda, in cui era stata disciolta una quantità massiccia di medicinale, ha subito anche un'aggressione. Sì, la cosa veramente ancora più scandalosa è questa. Insomma, commissionare un'aggressione del genere al fine proprio di aggravare le conseguenze dell'assunzione del farmaco dimostra ancora di più quanto sia diabolico il piano. Sono stati dei problemi anche per i medici all'inizio per capire il perché di queste condizioni, di questa persona che è stata ricoverata diverse volte in ospedale. Sì, i primi accessi al pronto soccorso risalgono addirittura al mese di marzo, quindi è evidente che la coppia stava già mettendo in atto il piano da diverso tempo. Dopo 5-6 accessi al pronto soccorso si è deciso per il ricovero nel reparto di ematologia e anche lì i medici sono rimasti abbastanza perplessi perché nonostante vari prelievi, varie analisi, non sono ancora riusciti a capire, non riuscivano ancora a capire cosa stesse accadendo. Avevano addirittura pensato di inviarlo in un centro specializzato per malattie, non so, genetiche. Avevano ipotizzato degli scenari assolutamente avulsi da quello che poi era la realtà dei fatti. Quando poi hanno scoperto tutta la vicenda e grazie al loro scrupolo che hanno inviato il campione di sangue al centro antiveleni per l'analisi, hanno scoperto la molecola di questo farmaco potentissimo e quindi hanno capito anche loro che cosa c'era dietro. Voi siete riusciti a ricostruire questa storia ma a scoprire soprattutto questo piano perché stavate indagando su un altro episodio, completamente slegato da questo? Sì, infatti il tutto è partito dall'aggressione che la donna ha patito a fine giugno in cui effettivamente è stata aggredita da sconosciuti che non siamo ancora riusciti a individuare che hanno addirittura pare tentato di violentarla.